Rilevate schiume nel torrente Caposelvi, mentre per le emissioni in atmosfera i modelli parlano di ricaduti in un raggio piuttosto contenuto. Queste le prime risultanze dei rilievi effettuati dai tecnici di Arpat all'incendio della Lem a Levane. I vigili del fuoco erano accorsi sul posto nella notte di giovedì attorno alle 21 per spegnere le fiamme che nella notte hanno divorato l'azienda ed hanno terminato l'intervento attorno alle 4 del mattino. A conclusione, il personale di Arpat è accorso sul posto e ha svolto un lungo sopralluogo per capire quale fosse l'impatto ambientale del rogo. L'incendio, scrive l'azienda regionale per la protezione ambientale della Toscana, ha interessato le vasche galvaniche con soluzioni per i trattamenti galvanici e diverse strutture di polietilene e PVC. Inoltre, i vigili del fuoco hanno riferito che anche il magazzino delle materie prime è stato coinvolto dall'incendio, ma all'interno dello stesso, secondo le dichiarazioni del proprietario, ai nostri operatori sembra non ci fossero stoccati cianuri. Gli operatori dell'Arpat hanno fatto poi installare una pompa nel pozzetto di raccolta delle acque meteoriche di Lavanti, prima della loro immissione nel torrente Caposelvi, in modo da interrompere lo sversamento delle acque di spegnimento e delle relative schiume nel corso d'acqua. Al contempo hanno provveduto a prendere contatti con l'azienda sanitaria competente per territorio. Per quanto riguarda le aree di ricaduta delle emissioni, invece, date le condizioni meteo simili a quelle della notte in cui le fiamme hanno devastato la Valentino Schuss, è ragionevole ritenere, scrive Arpat, che siano sostanzialmente corrispondenti con quelle già interessate dall'incendio, che si era verificato la settimana scorsa e dunque con ricadute entro 300 metri dallo stabilimento. Infine, Arpat ha proposto al sindaco di Buccine di emettere un'ordinanza nei confronti del legale rappresentante della ditta LEM, che imponga la rimozione di tutti i rifiuti derivanti dall'incendio e dalle operazioni di bonifica post rogo della struttura, comprese le acque di spandimento.